È insegnante di scuola media non più in servizio e da sempre ha coltivato l'obbi del canto, ma solo da pochi anni frequenta una scuola di canto lirico per migliorare la sua vocalità. Ha fatto parte di diverse formazioni corali e ultimamente è stato tenore solista della corale Lorenzo Perosi della Cattedrale di Imola. Si è esibito come solista in diverse manifestazioni musicali, in teatri e in centri culturali. Il suo repertorio spazia dalla musica sacra a quella profana, più in particolare nel repertorio lirico, nelle romanze d'autore e nella canzone napoletana classica. Questa sera ci metterà in questi diversi generi per noi il tenore Giuseppe Pietrantoni. La rondine al nido di Vincenzo De Crescenzo. Dalla voce del tenore Giuseppe Pietrantoni al pianoforte Emanuele Andrei. Grazie. 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 Grazie.